Allora, io mi chiamo Matteo Arietti e lavoro da Park dal 2018. Park Plus è, diciamo, espressione dell'orizzontalità con cui lavora Park Associati. Un'idea che è nata, se così vogliamo dire, dal basso, da una proposta che arriva anche da altri due colleghi, Michele Versacci e Andrea Riva, e fondamentalmente nasce dal desiderio di provare a fornire lo studio di uno strumento che in qualche modo possa essere in grado di supportare i team, lavorando però in maniera non distaccata, ma in maniera complementare. Io sono Alice Cuteri, lavoro da Park da molti anni, dal 2006 direi. Mi occupo di gestire la materioteca come ricerca e materiali insieme ad altri miei tre colleghi. L'aspetto di sperimentazione e di ricerca per noi è fondamentale. Quando io parlavo di dimensione dello studio, adesso noi abbiamo anche gli strumenti, le persone, che possono andare a fare più ricerca e questo per noi è fondamentale. Thinking Plus si lega al provare in qualche modo a mettere in piedi un esercizio mentale, più teorico, di indirizzo dello studio in termini di expertise, poetica e ricerca. Making Plus invece è molto più legata alla prototipazione. Separare la ricerca dal tempo del progetto. La ricerca ha bisogno di tempi diversi, ha bisogno di sbagliare, ha bisogno di tornare indietro, ha bisogno di riprovare. Noi abbiamo avuto la possibilità di mettere in piedi un piccolo laboratorio di modellazione che aiuta a supportare il processo creativo. Quindi non sono modelli, non sono prototipi che servono solo per le presentazioni o per i clienti, ma servono effettivamente ai partners, agli associati, ai capi progetto per riuscire a imbrigliare appunto il progetto, tenerlo più sotto controllo e raggiungere dei risultati che altrimenti potrebbe essere magari più difficile riuscire a raggiungere. Andando a creare un dipartimento che facesse solo ricerca, questo ci ha permesso di andare ad alimentare il progetto quando la ricerca aveva sviluppato già delle idee interessanti.